Il responsabile Servizio Patrimonio del Comune di Lucera, Francesco Pellegrino, con propria deliberazione numero 44 del 2012, ha indetto per il giorno venerdì 23 marzo 2012 la gara per l'appalto del servizio di pulizia dei bagni pubblici, ubicati presso la Villa Comunale, in Viale Falcone e Borsellino, in Piazza Tribunali e al Cemitero Comunale, relativamente al locale bagno e al locale sala mortuaria, per la durata di 5 anni e per l'importo a base d'asta di 90.000 euro, IVA esclusa. In data 12 marzo 2012, lo stesso dottor Pellegrino comunica che il bando è stato revocato, perché durante la fase di redazione degli atti di gara, per mero errore materiale, sono state quantificate in modo sbagliato alcune prestazioni e modalità di esecuzione del servizio, e inoltre sono sopraggiunte alcune esigenze dell'ente comune che impongono di dover prevedere nuove condizioni nell'appalto di espletamento del servizio. Per queste ragioni è stato revocato il bando pubblicato e gli atti di gara, garantendo di provvedere all'indizione di una nuova procedura concorsuale.